Io vivo solo con mamma, in una vecchia propietà, via Pagadini, con una gata inventata, la tartaruga senza andare in canadini, perché mamma riposo un po', ci penso io, visto che so, a cucinare, mettere i nomi di pulire, fare la spesa per te l'oro, anche la cucina. E' un po' di colazione, è un po' di sinistra, e non è la notte dove so, che io do tutto per me, sono un artista, e se volete non si è spaventato, che io do tutto per me, è un po' di sinistra, e nella sala vedo che, i maschi dicono in me, è un po' di sinistra. E' 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 un po' di sinistra. C'è qualche ricantatore che crede di scegliotare bene con l'archeggiare. Ommo per la gente che non sa quanto il piccolo si fa da compatire. C'è qualche ricantatore che crede di più che può, hanno concesso da più. E grande attrice che colpo fosse lo delice, ad un'altra famiglia, un uomo come il tesi di un cibo. C'è qualche ricantatore che crede di più che può, hanno concesso da più. Adesso faccio questo premio, quest'anno mi ha fatto questo grande omaggio a Ele e a Finne. Perché io ho partecipato qua, fino all'anno scorso. Primo anno ma rimane a Finne, secondo l'anno neanche in Finne. Ma senza mai perdere Ele e tu, non puoi conoscere, mai perdere il bello di cantare, di scoprire, di conoscere. E quest'anno Ele è che ha fatto questo titolo. E per me è un grande regalo a tutti. Grazie Marco. Posso dire che ha una classe, tu sei un personaggio. Ecco, ecco quello che voglio dire, grazie al premio, questo ecco, posso dirlo a Ele. Grazie al premio io ho avuto delle belle, belle collaborazioni. Quindi ragazzi, io ero qui, quindi ecco. Un bacio, un bacio, un bacio e un grazie. Grazie. Grazie.